Sere d'estate, ovviamente terza edizione, siamo a Rivalta e siamo pronti per cominciare così a gironzolare tra le varie realtà che stanno popolando questo bellissimo momento di aggregazione ci sono diciamo molte realtà oltre ai libri, oltre alle piante ci sono anche delle possibilità di conoscere realtà locali e conoscere anche l'attualità delle cose e l'attualità che si muove, l'attualità che cerca di fare qualcosa per incontrare la comunità e per parlarne e per parlare di questa iniziativa ovviamente abbiamo con noi un ospite Elena Ferro, benvenuta grazie a voi allora un'iniziativa importante che riguarda il mondo del lavoro che il mondo del lavoro non ha mai penso nel nostro paese avuto dei momenti bellissimi però ultimamente forse c'è effettivamente qualcosa da rivedere ecco adesso arriviamo un po' al punto fondamentale cosa c'è da rivedere e qual è allora adesso l'obiettivo di CGL? bene, intanto da rivedere c'è completamente l'impianto normativo del lavoro in particolare il lavoro che riguarda i giovani e le donne perché da molti anni, dal pacchetto 3U, quindi sono più di 20 anni abbiamo avuto questo continuo scambio di flessibilità che si traduce in realtà in precarietà e questo ingresso nel mondo del lavoro attraverso contratti che sono brevi, anche brevissimi impedisce alle persone, alle donne, agli uomini del nostro paese di avere una prospettiva di futuro banalmente, contrarre un mutuo, fare delle scelte di prospettiva, crescere, evolvere, studiare, informarsi e quindi noi abbiamo deciso, oltre a tutte le iniziative che ha in campo la CGL manifestazioni, la contrattazione, di promuovere quattro referendum per difendere il lavoro difendere il lavoro di qualità e la sua sicurezza insomma, quindi quattro referendum che vogliono battere la precarietà e ripristinare quello che è un diritto di ciascuna e ciascuno di noi e cioè il diritto a poter lavorare e a non essere licenziati in modo illegittimo ecco, questo è uno dei primi elementi Posso fare una domanda Elena? In realtà la battaglia sulla precarietà è una battaglia di lunghissimo corso diciamo, mi sembra insomma che sia andata anche incontro a diverse sconfitte perché evidentemente, come dire, la fragilità del lavoro e ciò che caratterizza, diciamo, intergenerazioni diciamo, di cittadini di questo paese e non soltanto di questo paese diciamo, in cosa consiste la novità in questa proposta referendaria rispetto, diciamo, al tentativo, come dire, di combattere la precarietà che è un cancro vero e proprio di questo paese Assolutamente, ti risponderei usando due argomenti in particolare il primo perché con il referendum, in particolare con i primi due quesiti noi vogliamo abolire la parte del Jobs Act che è il più recente provvedimento che ha ulteriormente precarizzato il mondo del lavoro vogliamo abolire in particolare quelle parti che impediscono la reintegra nel luogo di lavoro potrebbe apparire un elemento che non è legato alla precarizzazione ma invece lo è perché anche un contratto a tempo indeterminato se non ha la protezione dell'articolo 18 quindi contro il licenziamento diventa in realtà, in modo surrettizio un contratto precario a termine perché mette nelle mani del datore di lavoro l'attuale legislazione la possibilità di interrompere anche in modo illegittimo perché anche in questo caso tu dovresti comunque andare davanti a un giudice fare in modo che il giudice emetta una sentenza e oggi pensate per le piccole aziende con due mensilità e mezzo si può insomma sanare quell'illegittimità ecco noi pensiamo che questo vada abrogato e vada ripristinato il diritto per tutti il secondo elemento della tua sollecitazione riguarda invece i contratti a termine ecco noi vogliamo reintrodurre le causali anche nel recente decreto lavoro quello che è stato emesso il primo maggio dell'anno scorso una ferita per le organizzazioni sindacali perché in realtà il decreto lavoro del governo Meloni è un decreto che ha ulteriormente peggiorato le condizioni di lavoro perché pensate si può addirittura mettersi d'accordo a livello individuale la persona che cerca lavoro col proprio datore di lavoro in merito alla motivazione di un contratto a termine come se ci fosse davvero un equilibrio di potere mentre noi sappiamo il sindacato esiste per questo per ripristinare una simmetria di potere che altrimenti esiste quindi noi vogliamo reintrodurre le causali per impedire i contratti a termine anche di una giornata che purtroppo sono i numeri che oggi vengono spacciati come incremento dell'occupazione tenete conto che mentre noi promuoviamo questi referendum dall'uscita del Jobs Act cioè dal 2016 ad oggi abbiamo attraverso le cause smontato pezzo a pezzo questa norma perché di fronte a delle vertenze siamo riusciti a ripristinare quello che noi oggi stiamo chiedendo perché promuoviamo un referendum perché vogliamo che la norma venga cancellata e che quindi non sia più necessario fare una causa ma che questo si affermi come un diritto quello alla conservazione del posto di lavoro per tutte e per tutti volevo chiederti anche un'altra cosa siamo dentro un contesto quello di Sera e d'Estate che in questa terza edizione si occupa di questioni di genere declinate davvero davvero a 360 gradi tu all'interno della Camera del Lavoro di Torno ti occupi anche di politiche di genere direi che questa è un'altra di quelle battaglie diciamo che come dire non vedono mai un orizzonte definito e per cui insomma è una di quelle battaglie sulle quali insomma ogni giorno bisogna essere in trincea che tipo di lavoro fate quotidianamente questa è una domanda impossibile che però non posso non fare a te insomma che ti occupi di questo ma anzi io ti ringrazio è un piacere essere qui questa sera noi tra poco presenteremo lo Statuto delle Lavoratrici che è una prima chiave di lettura del mondo del lavoro delle donne che in realtà è il mondo del lavoro forse peggiore a proposito di precarietà di dignità di accessibilità e di asimmetrie di potere la Camera del Lavoro di Torino la CGL di Torino ha in particolare nell'ultimo periodo ha promosso un'iniziativa che proprio mira a contrastare quella che è la simmetria del potere all'interno delle organizzazioni all'interno dei luoghi di lavoro e quindi oltre a difenderci con la contrattazione cioè per esempio promuovere tutte quelle iniziative che all'interno delle imprese permettano anche ai nostri cari colleghi maschi di assumersi delle responsabilità che storicamente sono sempre state attribuite alle donne perché oggi ci sono percentuali piuttosto elevate di donne nel mercato del lavoro che danno le dimissioni rinunciano a contratti full time cioè a tempo pieno prendono dei contratti part time perché devono comunque necessariamente conciliare il loro lavoro con la cura familiare ecco noi stiamo promuovendo queste attività e promuoviamo anche con forza la necessità quindi non solo di un'assunzione di responsabilità ma anche per noi combattere quella che è una violenza che si può manifestare in molte forme una è quella che sentiamo ancora oggi purtroppo un altro femminicidio sono veramente tanti così come la sicurezza sul lavoro sono morti inspiegabili e inaccettabili per noi ma c'è anche una violenza più sottile una violenza psicologica una violenza economica che viene perpetrata nei confronti delle donne e quindi noi agiamo su questo per trasformare quello che è il mondo del lavoro anche nella nostra quotidianità ti faccio un'ultima domanda quali sono le modalità come si può partecipare come si può sottoscrivere insomma questa vostra richiesta di referendum se bisogna andare su un sito se bisogna fare delle cose particolari per partecipare a questa iniziativa beh dunque intanto c'è ancora un ultimo quesito che è quello che riguarda la sicurezza negli appalti mi permetto di richiamarlo perché forse l'aspetto mi leggo esattamente alla considerazione che facevamo prima rispetto proprio alla sicurezza del lavoro in quelle che sono appalti e subappalti cioè nella filiera lunga in cui purtroppo si risparmia su tutto e anche sulle condizioni di lavoro come si fa? allora intanto noi siamo presenti da due mesi lo saremo ancora fino al 6 luglio in moltissimi mercati nelle aziende nei luoghi di lavoro stasera qui a Binaria siamo presenti per la raccolta firma cartacea basta un documento e un minuto del vostro tempo e potete supportare questa iniziativa ma potete farlo anche online sul sito della CGL nazionale digitando referendum chi ha uno speed o una carta di identità elettronica può sostenere anche online questa raccolta cosa succederà quando avremo raggiunto le firme le abbiamo già raggiunte ma noi vogliamo ottenere un risultato politico più importante noi andremo al voto il prossimo anno e quindi chiederemo a tutte e tutti noi di esprimersi per l'abrogazione di queste norme quindi un sì vi chiederemo un sì probabilmente nel giugno del 2025 per battere questa precarietà e ricostruire le premesse anche per un'eguaglianza e appunto una simmetria che oggi consideriamo negata allora grazie a Elena Ferro Camera del Lavoro di Torino intanto tra pochissimo insieme a Irene Suave per raccontare lo statuto delle lavoratrici noi intanto continuiamo a raccontare Sere d'estate un passaggio musicale poi siamo ancora qui da Rivalta di Torino tra poco buon lavoro